Ciao Mimmo, sono Ariese Pio X, provincia di Treviso, è qui che è partita l'ultima tappa del Giro d'Italia che come sappiamo ha decretato vincitore Vincenzo Nibali, classe 84 messinese. E' la prima volta che una tappa del Giro più amato dagli italiani parte da uno stabilimento, quello di Pasta Zara. Io sono insieme a Furio Bragagnolo che è il presidente di Pasta Zara. Allora dicevamo da qui è partito il Giro d'Italia ma da qui parte la pasta per tutto il mondo, presidente? Esatto, questo è vero perché Pasta Zara esporta i suoi prodotti in 104 stati. Dunque come il Giro d'Italia che è una corsa sia italiana ma ha un riflesso internazionale, Pasta Zara lo stesso è italiana, ha le radici nel territorio. Noi abbiamo tre stabilimenti, in tutti i tre stabilimenti collaboriamo con le amministrazioni e però siamo internazionali come il Giro d'Italia. Dicevamo che è dunque la prima volta che si parte da un'attività produttiva e allora ricordiamo un attimo anche che voi con questa giornata festeggiate i 50 anni di attività qui nel territorio di Riese anche se fate la pasta da 100 anni? Sì è vero, noi dal 1898 siamo produttori di pasta a Riese di 50 anni e abbiamo cercato di unire la ricorrenza di 50 anni con il Giro d'Italia insieme al Comune. Siamo arrivati a fare questa manifestazione, il ciclismo è uno sport popolare, è uno sport per tutti, la pasta la mangiano tutti. Siamo riusciti a fare questo e una volta che la carovana è partita tutti gli appassionati del ciclismo e tutti i riesini possono visitare lo stabilimento, anzi stanno visitando lo stabilimento e faranno degli assaggi di pasta. Questo perché vogliamo fare una festa, bisogna ogni tanto vedere positivo e anche questo è un messaggio che noi vogliamo dare. Siamo in un periodo difficile, un periodo molto duro, però ci vogliono anche segnali di festa e di serenità. Io vorrei un attimino citare una persona che è qui davanti a noi e che è la mamma del presidente, quattro generazioni questa famiglia. Quattro generazioni e la quinta si sta preparando, dunque non è ne ancora finito. La quinta sta facendo i giusti allenamenti, pronti per le tappe e per le corse più importanti. Benissimo, di tappa in tappa. E allora di tappa in tappa noi proseguiamo il giro attraverso lo stabilimento perché oggi è stato inaugurato anche un altro padiglione proprio dello stabilimento di Pasta Zara. Ma intanto presidente, guardi, un piatto di pasta ci sta tutto. Allora ce lo mangiamo? Un piatto di pasta si deve mangiare ogni giorno, chi fa sport, chi non fa sport, bisogna sempre mangiarla. Perché la pasta fa bene, fa benissimo la pasta. E soprattutto pasta e pomodoro, il classico della pasta italiana. Eh sì, lince sempre su tutto il pomodoro con la pasta. Bene, allora Mimmo, noi mangiamo, proseguiamo poi dopo il giro, intanto ti ridiamo la linea. Ciao, grazie presidente. Grazie a voi, arrivederci.